Fare ogni tanto un esame, misurare la pressione, l'ascoltazione cardiaca da parte di un medico per un paziente sicuramente non guasta. Nel caso dei certificati che stiliamo noi medici di medicina generale è sicuramente importante l'anamnesi, il conoscere bene il paziente ma soprattutto consigliarlo in quello che gli fa bene o in quello che gli fa meno bene anche eventualmente consigliargli quale tipo di sport è più confacente alle sue attitudini io vedo il nostro ruolo più in quello che non invietare rigorosamente delle attività sportive.